Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto La leggenda delle rovine dimenticate dell'episodio numero 3 Le strisce di Plaki Una volta che Plaki si allontanò dai suoi amici e fu condotto davanti a Louise il re delle scimmie Plaki, eccitato di conoscere i misteri delle rovine dimenticate disse Salve signor Louise Io mi chiamo Plaki È vero che lei sa ogni segreto sulle rovine dimenticate? Louise, stupefatto che Plaki provasse curiosità per le antiche rovine rispose Sì, caro lupacchiotto Io so ogni cosa sulle rovine dimenticate Ma perché me lo chiedi? Non sai che è proibito dirigersi laggiù? Plaki insistendo disse Ti prego Louise Ho così tante domande da farle Io devo percorrere questa avventura per rendere fiero il mio capobranco Pure i miei amici non si sono degnati di aiutarmi Vorrei sapere perché le rovine dimenticate sono proibite Ad eccessione delle tigri e le iene striate E dove è finito il tesoro che ha portato in discordia gli uomini della città portandola alla rovina? Louise rispose Va bene Dato che insisti ti risponderò Io credo che le tigri e le iene striate avendo le strisce possano avventuarsi tra le rovine senza problemi poiché sono immuni alle sue sventure Mentre il tesoro che ha portato in lite gli uomini temo di non saperlo con precisione Tuttavia ora che ho capito le tue reali intenzioni ti aiuterò Ragazzi pitturate di strisce e placchi subito Così sarà protetto da ogni incantesimo delle rovine dimenticate Le scimmie ascoltando il loro re senza indugio pitturarono placchi rendendolo tigrato il quale prendendo molta sicurezza in sé credette di non avere più nessun problema a disobbedire alla legge della giungla continuando il suo viaggio nella foresta questo è il disegno bene vi ringrazio dell'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Davide ciao buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale continuiamo oggi nella lettura del mio racconto la leggenda delle rovine dimenticate dell'episodio numero 4 l'incontro con i doles una volta che placchi divenne tigrato e si avventurò nella foresta egli incontrò una famiglia di doles dei feroci canidi indiani i quali non rispettavano nessuna legge della giungla placchi incuriosito se i doles sono leali nel rispettare la legge delle rovine dimenticate si avvicinò a loro domandandogli se erano mai stati alle antiche rovine Flavio il padre della famiglia di doles rispose be' straniero noi doles anche se non rispettiamo nessuna legge della giungla temiamo quel posto devi sapere che non è sicuro neppure per l'uomo conosco un'antica storia che racconta che una decina di uomini si erano recati alle rovine dimenticate per intracciare il suo tesoro ma nessuno di loro è mai tronato indietro secondo me alle rovine incombono molte stranesse inspiegabili è per questo che noi doles obbediamo a questa legge quel territorio è maledetto sia per noi animali che per gli uomini ma perché mi poni questa domanda non vorrei avventurarti laggiù spero Plachi non volendo dire la verità rispose ovvio che no chi può essere così sciocco a dirigersi alle rovine dimenticate volevo solo capire seppure i doles che non rispettano nessuna legge sono obbedienti al divieto d'accesso alle rovine dimenticate Flavio offeso che Plachi giudicava i doles come un clan riluttante e lavativo alle regole insieme alla sua famiglia lo scacciò conducendolo lontano dal loro territorio dove Plachi imparò di non socializzare mai con i doles questo è il disegno bene vi ringrazio dell'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Davide ciao